ciao a tutti oggi siamo qui al campo per testare e recensire i guanti adder del brand 11 ma come si comporteranno in campo seguitemi lo scoprirete il lattice è il contact grip uno dei migliori che abbiamo provato e che ha ottime prestazioni su asciutto buone su bagnato ed una buona resistenza all'abrasione il taglio è lo xenocut un taglio brevettato da 11 che non è altro che un evoluzione del taglio ibrido roll finger infatti combina roll finger sulle due dita esterne e taglio negativo sulle due dita centrali questo taglio si estende in cinque punti della mano donando grande stabilità e superficie di presa il corpo del guante è costituito da un pezzo di neoprene che alla base del guante è stato traforato per una maggior traspirazione della mano mentre sulla porta è alta abbiamo delle stampe in gel che danno più grip nelle rispinte di pugno la struttura risulta molto leggera e abbastanza aderente alla mano in tutti i movimenti della stessa il polsino è molto particolare infatti troviamo questa apertura che facilita notevolmente l'entrata della mano nel guanto è composta da parte in neoprene e da una parte in lattice il cinturino invece è in materiale elastico molto corto che permette un'ottima chiusura in generale ader mi ha convinto sotto tutti i punti di vista l'ottimo lattice la costruzione curata nei minimi dettagli e il prezzo di soli 69 euro fanno di questo guanto uno dei migliori best buy in circolazione concludendo lo consiglio a chi vuole provare un prodotto innovativo con una calzata aderente leggera ma che allo stesso tempo offra un grande sostegno alla mano in fase di presa grazie allo xeno cut che mi è davvero piaciuto se siete interessati all'acquisto visitate il link qui sotto in descrizione noi ci vediamo presto e un saluto agli amici di lasciarlo gloves